la prossima ospite della prossima puntata di stories è virginia raffaele ciao virginia benvenuta benvenuti stato bravo si ho capito poco come l'intervista invece abbiamo raccontato una marea di cose che non hai mai raccontato d'altro canto un'intervista lunga su tutta la tua carriera è la prima volta che ti capita sì 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 prima volta che vengo in tv io no che viene in tv no però così lunga così lunga quante interviste televisive così lunghe non ce l'ho non ce l'ho non ce l'ho era facile rifacciamo faccio no non facciamo perché già è stata è stata va bene in questa intervista è raccontato di tantissime cose del tuo prossimo spettacolo non fare così dai no non fare così mi va hai fatto hai detto tantissime cose no hai raccontato della tua infanzia hai raccontato del tuo lavoro degli inizi dello stuntman c'è una base ciao ciao Grazie per la visione!